Nel mondo perché noi ci siamo e ve lo raccontiamo, ve lo facciamo ascoltare integralmente. Facciamo vivere queste emozioni. Tra poco, in diretta qui. Grazie al cielo arriva il weekend. Ed Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, Clementine con foglia, in bauletto da due chili, a 89 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente per gli Einstein di tutti i giorni. Beh, 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 che noia qui dentro. Andiamo tutti sempre negli stessi posti. Ah, io esco. È facile uscire dal gregge, basta entrare in Conforama. Da noi trovi qualità made in Italy e una vasta gamma di mobili per arredare casa con la tua personalità. Conforama, da casa nasce casa. RTL 102.5 e Ponte di Legno Tonale ti invitano alla Coppa del Mondo di Sci Alpinismo. Dal 16 al 19 dicembre, i più forti atleti del mondo si sfideranno in tre diverse gare ricche di attesa ed emozione. Giovedì 16, dalle 17 alle 20, vieni a Ponte di Legno e prendi posto nel parterre della Coppa del Mondo per vivere la gara sprint, la più avvincente delle tre, nella magica atmosfera della pista illuminata nella notte. Info su Ponte di Legno Tonale punto com. Quando a casa chiedi Amore, come risparmiamo in vista del Natale? Nel tuo supermercato Famila rispondono Con le nostre imperdibili offerte sotto costo Come prosecco spumante Doc Pirani, extra dry o brut A soli 2,89 euro fino al 12 dicembre Da Famila risparmi senza rinunciare alla qualità Fresco, cremoso e buonissimo Quando mangio mi piace tuffarmi nella bontà Per questo scelgo Exquisa Exquisa, Exquisa La bontà va condivisa Scopri il fresco cremoso classico Exquisa In offerta nei punti vendita Doc Sky Cinema porta il cinema a casa tua Con oltre 200 prime visioni all'anno E il meglio dei film italiani e internazionali Tra cui Dune, il nuovo come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morto E Fast and Furious 9 E in più hai anche Netflix Porta il cinema a casa tua Prova SkyQ per vedere Sky Cinema Netflix e molto altro A 9 euro per 30 giorni Senza vincoli e senza parabola Chiamaci 02 8080 Vai su sky.it o nei negozi Sky Non primo, primissimo Non amaro, amarissimo Non bene, benissimo Petrus, l'amarissimo che va benissimo Petrus Bonekamp Superlativo Da Troni fino al 24 dicembre Acquista due dei tanti prodotti in promozione Il meno caro lo paghi la metà Come la macchina automatica magnifica S Smart De Longhi Il caffè dai chicchi macinati al momento Tu ha soli 174,50 euro Troni, non ci sono paragoni Ma dove siamo? Sembra di essere in un film oeste No, una carovana Ma dov'è finito Marco? Psst, sono qui nella tenda indiana Ehi, vi muovete? Io sono già nel saloon Sentite che profumino Da Old Wild West Ogni sera è una fantastica sera Vivi l'atmosfera travolgente del vecchio West E scopri le tantissime proposte sfiziose e di qualità Old Wild West La tua esperienza di gusto In un mondo magico Tutti vanno all'Old Wild West Computer, dimmi le cose da fare Ok, fai la spesa Pranza con Marco Partecipa alla call delle 14 e 30 Ricarica l'auto elettrica E il percorso più veloce? Secondo i miei calcoli Puoi fare tutto all'AnyLive Station In un mondo che non sta mai fermo Il bello è avere sempre nuove soluzioni Da AnyLive Station trovi anche il Wi-Fi Le aree di ricarica elettrica E paghi il rifornimento con l'app AnyLive AnyLive Station Puoi farci anche rifornimento Ciao, sono Gigio D'Ambrosio Ti chiedo di sostenere la comunità Nuovi Orizzonti Che opera in prima linea nella prevenzione e accoglienza La pandemia in atto ha aggravato la situazione di tutti Soprattutto delle persone più fragili E il disagio giovanile è in crescita Puoi realizzare con noi i Punti Gioia Laboratori espressivi ed educativi Attività sportive e culturali Centri giovanili per più di 8.000 giovani in tutta Italia Fino all'11 dicembre invia un SMS O chiama da fisso il 45598 Aiutaci a riaccendere la speranza 45598 All'S Lunga la convenienza parla da sé Siamo gli sconti fino al 50% Perfetti per aspettare le feste insieme Buoni, alti, ricchissimi Di convenienza All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50% Un esempio? Orata già pulita al chilo scontata del 50% A 5,90 euro Fino al 15 dicembre anche online Fino a esaurimento scorte Info nei negozi e su S Lunga punto it S Lunga Più la conosci Più ti innamori Tutti pronti? Mi auguro di sì Noi anche Tra pochi Factor 2021 Rimanete con noi A tra poco Qual è l'emozione che solo il mare sa dare? Può essere questa O questa Oppure questa Solo il mare può offrirti tanto Solo MSC Crociere e tanto di più Scegli tra Mediterraneo, capitali europee, Emirati, Arabia e Mar Rosso Da 249 euro per persona MSC Crociere, un mondo di scoperte Il prezzo non comprende la quota di servizio alberghiero e il piano di protezione covid obbligatori Scopri di più in agenzia viaggi su MSC Crociere punto it Quando a casa chiedi Luca, prendi qualcosa di buono per stasera? Nel tuo Famila rispondono Provi solo i miei formaggi del nostro territorio E se lei ti dice Ma, mi prepari un centrifugato? Famila ti consiglia Venga a scoprire la nostra selezione di frutta e verdure italiana E se lui propone Facciamo il pesce stasera? Nel tuo Famila Le consiglio alle nostre orate, sono freschissime Da noi trovi tutto quello che cerchi Anche i tuoi prodotti Selex preferiti E risparmi senza rinunciare alla qualità Famila, con noi sei in famiglia Con Fondital, cogli l'opportunità Cambia subito la caldaia Con le nuove detrazioni puoi risparmiare fino al 65% E anche i radiatori sono compresi In più con Fondital puoi beneficiare dello sconto in fattura Fantastico! E come posso fare? Informati subito su fondital.it Scegli Fondital Leader da 50 anni nei sistemi per il riscaldamento radiatori Caldaie e anche pompe di calore Il tutto made in Italy Da Troni dal 2 al 24 dicembre Acquista due dei tantissimi prodotti in promozione Il meno caro lo paghi la metà Tieni a trovarci nel punto vendita più vicino a te Cosa aspetti? Approfittane subito Regolamento nei punti vendita Troni Non ci sono paragoni RTL 125 presenta Beak & Bang Hits 21-22 La compilation più esplosiva dell'anno in triplo CD Fatti un bel regalo Preordina la ora RTL 125 Very Normal People Grazie al cielo arriva il weekend Ed Eurospin è un weekend di follia Da venerdì a domenica Clementine con foglia In bauletto da 2 chili A 89 centesimi al chilo Eurospin La spesa intelligente Per gli Einstein è di tutti i giorni La settimana bianca inizia alla grande Ah sì, niente traffico E la macchina non la tocchiamo neanche Quest'anno con le frecce e il freccialink Che arriviamo fin sulle piste E i bagagli arrivano direttamente in hotel Visita Trenitalia.com Scarica l'app e scopri come raggiungere la tua località di montagna con le frecce Affrettati Sono ancora disponibili l'offerta insieme scontata fino al 50% E il servizio bagaglio facile Anche per Intercity Offerte soggette a limitazioni Info su Trenitalia.com Quest'anno apriti all'ecosistema Samsung Acquista Galaxy S21 entro il 19 dicembre 2021 Registralo entro il 9 gennaio su Samsung Members E ricevi Galaxy Chromebook Go Nei negozi Team Galaxy S21 può essere tua a 13 euro al mese Per 30 mesi tag 0% Messaggio promozionale Offerta di finanziamento valida fino al 9 gennaio 2022 Info e condizioni presso i negozi Team E su teamfin.it Salvo approvazione di Teamfin Operazione a premio promossa da Samsung Regolamento su samsung.it Slash promozioni Mamma, ma questo posto è bellissimo! Raggiù c'è l'attento degli indiani Posso entrarci? Ti prego Ok, io intanto ti ordino hamburger e patatine Sì! Andare da Old Wild West è sempre una fantastica sorpresa Per grandi e piccini Lasciati trasportare dall'atmosfera unica del vecchio West E scopri gustosissimi piatti E gli originali menù per tutta la famiglia Old Wild West La tua esperienza di gusto In un mondo magico Tutti vanno all'Old Wild West RTL 102.5 e Ponte di Legno Tonale Ti invitano alla Coppa del Mondo di Sci Alpinismo Dal 16 al 19 dicembre I più forti atleti del mondo Si sfideranno in tre diverse gare Ricche di attesa ed emozione Giovedì 16 dalle 17 alle 20 Vieni a Ponte di Legno E prendi posto nel parterre della Coppa del Mondo Per vivere la gara sprint La più avvincente delle tre Nella magica atmosfera della pista illuminata nella notte Info su ponte di legno tonale.com Le 2220 siete in diretta Soretti alle 102.5 E tutti insieme conosceremo il vincitore di questa edizione di X Factor 2021 All'Esse Lunga la convenienza parla da sé Siamo gli sconti fino al 50% Perfetti per aspettare le feste insieme Buoni, alti, ricchissimi Di convenienza All'Esse Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50% Un esempio? Spumante Brut Ferrari 75 CL a 9,20 euro Fino al 15 dicembre anche online Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte Info nei negozi e su esselunga.it Esselunga Più la conosci Più ti innamori Oh, adesso relax Sì, niente auto, zero stress I bagagli arrivano in hotel, giusto? Esatto E il tutto con lo sconto sui nostri biglietti E lo sconto ragazzi del 50% per Luca Amore, ti sei superata Visita Trenitalia.com Scarica l'app e parti per le tue vacanze con Freccia Rossa Affrettati Sono ancora disponibili le super offerte fino al 50% E il servizio bagaglio facile Anche per Intercity Offerte soggette a limitazioni Info su Trenitalia.com Ci siamo X Factor 2021 La finale Questa sera Dalle 21 e 15 su Sky E in streaming su Now In diretta su RTL 102 e 5 E in streaming su RTL 102 e 5 Play Mentre stai ascoltando la radio Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald Sta accogliendo oltre 100 famiglie Nelle sue 7 strutture vicino ai migliori ospedali italiani Così i bambini che devono curarsi lontano da casa Possono avere la loro famiglia vicino Ma c'è bisogno del tuo aiuto Dal 19 novembre al 14 dicembre Partecipa ai McHappy Day E fai una donazione su fondazioneronald.org Un gesto fatto col cuore Fa grandi cose Bitcoin Azioni Bitcoin e azioni Ci pensiamo noi Bitpanda rende gli investimenti accessibili a tutti Con un'ampia gamma di asset digitali Adatti a qualsiasi budget e propensione a rischio Non perdere l'occasione di investire nel tuo futuro A partire da un solo euro 24 ore su 24 7 giorni su 7 Per iniziare ti basta un click Apri il tuo account gratuito su bitpanda.com Slash it E inizia il tuo percorso di investimento Semplice, veloce e sicuro Proprio come dovrebbe essere Da Troni fino al 24 dicembre Acquista due dei tanti prodotti in promozione Il meno caro lo paghi la metà Come il forno a vapore Steam Crisp di Electrolux Per cibi sani e gustosi Tuo a soli 249,50 euro Regolamento nei punti vendita Troni Non ci sono paragoni R, D, L 5, 2, 5 Bellino motivo Bellino motivo E ci siamo! Sono le 23.45 7 a sempre Ehi Mary, sai che ING ha la carta di credito a canone zero? Ah sì? ING dà le carpe a credito a canone zero Sono serio? Sara! Le sfingi ti guardano in modo austero! Ah però, se tingi le scarpe del medico ne vai fiero? Parla neppure con chi vuoi Ma la storia non cambia Apri conto corrente arancio E la carta di credito è a canone zero Per un anno! Offerta valida fino al 31 dicembre Con attivazione carta entro il 28 febbraio Pubblicità con finalità promozionale Foglio informativi e istruzione iniziativa Nei punti fisici E su ING.it Nel sottocosto Unieuro Ci sono tutti i regali che vuoi Fino al 19 dicembre Lo smartphone Oppo Find X3 Lite 5G Tuo ha solo 329 euro Perché Unieuro Batte forte Sempre Buongiorno! È vero che qui posso fare lo speed senza fare la coda? Non mi dica che non ha ancora lo speed Non è normale quando c'è Buffetti che glielo dà al volo Senza tante inutili complicazioni Allora posso averlo adesso? Certo! E pensiamo tutto noi Tutto qui Tutto subito Tutto garantito Perché lo speed ormai è un documento d'identità Indispensabile Ci vuole quella consulenza E quella sicurezza Che solo Buffetti c'ha a dare Voilà! Il suo speed è pronto! Già pronto! Lei è un angelo! Sono semplicemente un negozio Buffetti Per il nuovo anno Non fare i soliti buoni propositi Ma super buoni Scopri buoni e super buoni di Unicredit Puoi ricevere un buono regalo da 100 euro E partecipare all'estrazione di 20 super buoni Spesa da 6.000 euro ciascuno Unicredit La banca per le cose che contano Pubblicità Manifestazione a premi buoni e super buoni Promossa da Unicredit In collaborazione con Mastercard E riservata ai nuovi clienti Che aprono un conto corrente Unicredit Entro il 31 gennaio 2022 Verifica tutti i requisiti e le condizioni Vieni nel regolamento su Unicredit.it Durante le feste tutto si accende Dalle passioni ai desideri più grandi Per connettersi con ciò che amiamo davvero Quest'anno apriti all'ecosistema Samsung Acquista da MediaWorld Galaxy Z Flip 3 Galaxy Z Fold 3 o Galaxy S21 Entro il 19 dicembre 2021 Registralo entro il 9 gennaio Su Samsung Members E ricevi Galaxy Chromebook Go Regolamento su Samsung.it Slash promozioni Vieni da MediaWorld Con Fondital Cogli l'opportunità Cambia subito la caldaia Con le nuove detrazioni Puoi risparmiare fino al 65% E anche i radiatori sono compresi In più con Fondital Puoi beneficiare dello sconto in fattura Fantastico! E come posso fare? Informati subito su Fondital.it Scegli Fondital Leader da 50 anni Nei sistemi per il riscaldamento radiatori Caldaie E anche pompe di calore Il tutto made in Italy Chiudi gli occhi Esprimi un desiderio E vieni da Upim I negozi con collezioni per tutta la famiglia Con il concorso Il Natale dei Desideri Puoi vincere fantastici premi E una Fiat 500 Hybrid Solo con Upim Card Montepremi 70.400 euro Regolamento su Upim.com Noi di PNL Benpe Paribas E Fondazione Teleton Uniamo la forza del nostro gruppo Alla ricerca E oggi anche grazie ai nostri clienti Celebriamo 30 anni di partnership Perché i risultati più grandi Si ricercano insieme Dona su BNL.it Messaggio pubblicitario